Provo a scrivere, a scrivere versi, ma quel che viene son solo lettere. Lettere che si inseguono nelle nere righe di una bianca pagina. Si ricorrono, trasmando parole, parole diverse, parole inversi, che forgeranno inversi, diversi pensieri sparsi. Nell'obbligo dispersi, pensieri sparsi, sparsi, immersi, immersi, diversi. Parole diverse, parole inversi, si ricorrono, trasmando parole, nelle nere righe di una bianca pagina. Grazie a tutti.